Risate, spettacoli dialettali, musica, cinema all'aperto e ospiti di livello nazionale. Torna anche quest'anno il nutrito programma dell'Arena BCC intitolata a Emanuele Emanuelli. Nel rispetto delle normative anti-covid, la polisportiva Treponti, in collaborazione con la cooperativa Treponti, la proloco di Fano con il patrocinio del Comune e della Regione Marche, ha stilato più di 60 eventi che animeranno l'estate fanese 2021. Ripeteremo dopo le belle esperienze dell'anno scorso all'Arena il Cinema Sotto le Stelle, fino a settembre, lunedì e giovedì. Al venerdì torna il dialettale, naturalmente. Tutti i venerdì il dialettale fino al 3 di settembre. Dove ad esibirsi sul grande palco saranno sette compagnie del territorio che si cimenteranno in storie divertenti e a tratti dedicati al momento covid. Presidente, adesso faccio il raffello, dammi una mano, pensa, pensa. Aspetta che penso, spremo, spremo, spremo. Ad animare l'Arena sarà anche la musica con l'esibizione dell'orchestra sinfonica Rossini, il leader e cantante Samuel dei Subsonica e le cover band con i Queen Mania e Vasco Rossi. Altro momento molto atteso è il concorso di Barzellette a Crepapelle, che quest'anno cambierà versione. La novità di quest'anno è le Barzellette, eravamo la nona decima edizione di gara, abbiamo cambiato completamente perché i concorrenti erano sempre quelli purtroppo. Allora quest'anno abbiamo pensato di portare i quattro finalisti della SAI l'ultima 2019-2020, naturalmente direttamente da Mediaset, i quattro finalisti saranno ospiti all'Arena BCC l'8 agosto, uno viene da Roma, uno da Modena, uno da Città di Castello, Perugia, nell'interno Ebicio, che è il nostro di Fermignano, l'amico nostro che era mai di casa. Venerdì 9 luglio invece andrà in scena tra palco e cuore, un appuntamento che vedrà esibirsi sul palco artisti musicali locali in una serata dedicata alla beneficenza e in ricordo di Fabio Guccioni, scomparso pochi mesi fa. Tutti gli eventi in programma sono consultabili sulla pagina Facebook dell'Arena BCC di Fano. Grande aperture, grande serate, più di 60 serate all'Arena, naturalmente è un record dei record, nella memoria del nostro amico Fabio che ci ha lasciato, che con tanta passione in questi 7, 8, 10 anni aveva collaborato tanto per questa iniziativa dell'Arena BCC.